Venerdì 16 febbraio, ben ritrovati. Prima edizione del nostro telegiornale interregionale, in apertura la protesta degli agricoltori che ormai va avanti da diversi giorni, la protesta che si fa sempre più forte anche se ieri al Circo Massimo non c'è stata la risposta che attendevano gli organizzatori in termine di partecipanti alla manifestazione. C'era una previsione addirittura di 20 mila partecipanti, pare fossero, almeno stanno i dati diffusi dalla questura di Roma tra i 1500 e i 2000. Comunque continua il dialogo, il confronto con il governo, si cerca un confronto anche con l'Unione Europea. Il nostro primo servizio da Roma, Francesco Manigrasso. L'Olo Brigida non è un ministro che ci rappresenta, non parliamo del governo, è un ministro che non ci rappresenta e ha detto lui che è amico della Col di Retti, quindi sta deficitando di nozioni tecniche, di agricoltura, quindi non può rappresentarci. Il problema è lui in questo momento. Noi agricoltori abbiamo capito che il popolo è con noi, è stato distrutto da diktat che non ci rappresentano, i leader di Cracalvani non la manda a dire. Ci hanno massacrato, hanno fatto patti e accordi con molti nazionali dove ci impongono leggi portando le loro merci e questi patti sono stati avvallati dalla Col di Retti. Con noi è arrivata la rabbia, dice, la disperazione di tanta gente stufa. La riduzione dell'IP su 10 mila euro è una cosa irrisoria, riduzione che poi superiore ai 15 mila euro e diventa del 50%. Poi c'è il fatto del gasolio, ci stanno portando dei prezzi limitati al 100%. È una manifestazione che non vuole sistemare le cose con un governo che ormai ha dimostrato di prendere delle imposizioni, di prendere delle decisioni da altre parti, ma vogliamo tornare al fatto che sia il popolo a decidere per il proprio futuro. Noi abbiamo dei territori, delle peculiarità, delle coltivazioni. Non si può decidere da Bruxelles quello che bisogna coltivare in provincia di Bari, che già è diverso da quello che si può coltivare in provincia di Foggia. Le richieste sono le stesse, ma sono due piazze divise. A pochi metri in Campidoglio c'è il neonato popolo produttivo. Basta fare favori a lobby, a multinazionali e lasciare perdere le aziende, chiudere. I consumatori non ce la fanno più a comprare, calano i consumi e gli unici che stanno guadagnando chi sono? Banche, società energetiche. Qui il mondo non solo degli agricoltori, ma anche della pesca e balneari, preoccupati di perdere tutto, case, lavoro, se il governo dovesse applicare la Bolkestan retroattiva. Diventiamo vittime dello Stato, il quale ha contratto con noi un contratto per la concessione demaniale che ci ha dato, dietro pagamento degli oneri previsti e dietro il pagamento ogni anno del suolo. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Un altro tema sul tavolo della politica nazionale, quello relativo ai migranti, perché è arrivato l'ok definitivo all'accordo che aveva creato non poche polemiche tra Italia e Albania per creare dei centri di accoglienza. In Albania andiamo proprio sulla Repubblica, vedete migranti, il nuovo piano di Meloni, ministri in Africa come a Caivano, argomento questo al centro anche di alcuni vertici internazionali che si sono registrati in queste ore. Nel paese dove i bambini, nella migliore delle ipotesi, sono piccoli schiavi, subiscono violenze e torture di ogni genere, scrive il quotidiano, dove neanche l'agenzia dell'ONU e le ONG riescono ad entrare. Giorgio Meloni vuole esportare il modello Caivano, quello per intenderci con cui il governo sta provando ad affrontare, soprattutto nel mezzogiorno d'Italia, il disagio giovanile, il fenomeno delle baby gang, la povertà educativa. Andiamo tutti in Libia e Tunisia, ha detto il Premier. Sviluppiamo progetti, controlliamo l'esecuzione, coordinando, come per Caivano, le presenze, in modo che siano cadenzate e diano il senso della continuità. L'invito rivolto dal Presidente del Consiglio, ieri sera i ministri, uniti a Palazzo Chigi, un altro improbabile tassello che si aggiunge al misterioso piano Matteo, con il quale il governo vorrebbe avviare un modello di cooperazione con le nazioni africane, non predatorio, bensì collaborativo, e che peraltro stenta. La Premier ha infatti ieri ripreso i ministri, invitandoli a rendere operativi i progetti che finora sono rimasti sulla carta. Tra l'altro, va detto che l'iniziativa del governo è stata aspramente criticata dalla CEI, che ha detto che con l'Albania in questo progetto sono soldi buttati, e chiaramente la sortita della CEI è poi divenuta una delle armi nelle mani delle opposizioni che hanno utilizzato proprio questo attacco per poi puntare il dito a loro volta contro il governo. Il modello Caivano che cos'è? Lo ricordiamo tra l'altro quando praticamente il governo con forza portò praticamente gran parte dei suoi rappresentanti a Caivano per rimarcare in maniera evidentemente non solo simbolica la presenza dello Stato in quel territorio. Lo stesso si può fare, si vuol fare praticamente, si vorrebbe fare praticamente sul tavolo dell'immigrazione. Torniamo alla politica di casa nostra. Chiaramente tiene banco a livello regionale, tengono banco le trattative, in vista delle prossime amministrative, si è perso evidentemente tanto o troppo tempo in trattative che stanno durando più del previsto, tanto a Bari quanto a Lecce. A Bari però c'è un candidato per quanto riguarda il PD e leccese, in attesa del confronto con gli altri partiti del centro-sinistra, lui si presenta, dice amo la mia città e sono pronto per questa battaglia. Antonio Bucci. Ecco sì, mi emoziono subito. Se il tavolo della coalizione mi dovesse chiedere facciamo la corrida, faccio anche la corrida. È l'immagine che sceglie Vito Leccese per raccontare al centro-sinistra la massima apertura in vista delle comunali di Mari 2024, lo fa presentando alla città la sua candidatura, ma pure alla vigile del vertice di coalizione chiamato a sbrogliare la matasse della figura alla quale è a affidare le chiavi del dopodecaro e con Michele Laforgia la convenzione che restano in campo. Io ho sempre detto che rispetto la volontà del tavolo, se il tavolo mi dovesse chiedere di fare un passo indietro io non ho difficoltà, non mi sono autocandidato, nel senso mi hanno richiesto una disponibilità e io ho questa disponibilità proprio per il grande amore che nutro per la città di Bari e anche perché sono stato protagonista negli ultimi vent'anni di questa esperienza politico-amministrativa a partire dalla primavera pugliese ho dato una disponibilità e continuo a servire le forze politiche che compongono questo largo schieramento. Parola d'ordine, unità, senza sapere però come arrivarci. Niente primarie ma la volontà resta quella di ascoltare la base tanto che c'è pure chi parla di caucus all'americana. Lui c'è, fa da collante, media e si rimette agli alleati. Se saranno primarie farò le primarie, se mi chiederanno di fare un passo indietro lo farò, se mi chiedono di andare avanti così come mi stanno già chiedendo alcune forze politiche tra cui il progetto Bari andrò avanti. Andiamo sul quotidiano, vedete il confronto di oggi in 35 al tavolo del centro-sinistra, primo confronto ecco le regole, dalla riunione di stasera non uscirà il nome del candidato unitario ma saranno fissati i paletti per decidere tra Leccese e La Forgia. Todaro è un passaggio preliminare, poi la consultazione della base. Passaggio importante è quello della riunione, si iscrive nel servizio di Beppe Stallone fissata la riunione per questa sera nella sede del PD ma sicuramente non sarà un passaggio risolutivo nel senso che non scaturirà stasera il nome del candidato sindaco del centro-sinistra per le amministrative di giugno. Lo conferma il segretario cittadino del PD, è un passaggio preliminare di discussione politica dichiara Gianfranco Todaro per capire gli orientamenti e a seguire faremo un confronto che potrebbe essere preliminare a uno strumento di consultazione della base. Le primarie o qualche strumento alternativo di questo se ne parlerà in un secondo momento. Ora è importante capire quale potrà essere l'orientamento dei 35 convocati tra partiti, liste, associazioni e movimenti. Poi in basso invece per quanto riguarda i lavori in casa centro-destra, ancora una settimana per il candidato, Polibortone a Lecce sblocca Romito. New Yorn Buon, scrive Paolo Malchiorre, è il titolo di una canzone che un giovanissimo Rocco Ant portò al successo dieci anni fa sul palco di Sanremo. È il giorno buono per conoscere ufficialmente la candidatura a sindaco del centro-destra per Bari non arriverà prima della prossima settimana. A correggere voci di corridoio, secondo cui la scelta sarebbe stata questione di ore, è arrivata ieri sera una nota dei segretari regionali dei partiti di centro-destra. In Salento, intanto la scelta sta ricadendo sull'ex ministro Adriana Polibortone, dando il via libera alla Lega a Bari. Ci sono chiaramente incroci che riguardano gli accordi nei due territori. Bari ancora all'esordio di Leccese, rigenerazione urbana e ambiente, i miei temi. Il candidato indicato del PD ieri sera ha incontrato in un locale i cittadini presenti Lomelo, Petruzzelli e Todaro. Se me lo chiedono faccio un passo indietro in previsione di eventuali primarie. Anna Maria Candela, presidente della Giusta Causa, crede nella possibilità che il centro-sinistra barese esca compatto dal faccia a faccia di questa sera. Bari può essere un laboratorio, la forgia unisce il campo largo primarie. Chi le evoca ancora adesso vuole solo dividere la coalizione. Mi auguro che stasera ogni attore in campo si esprima chiaramente. E c'è un altro tema che sta spaccando la politica italiana, quella relativa al terzo mandato dei governatori. Per i governatori, Lega e Fratelli d'Italia litigano sulla questione sindaci e governatori, anche spaccati in tutta Italia, ma sono divise anche le opposizioni. Torniamo a Roma. Francesco Manigrasso. Il terreno dello scontro tra Salvini e Meloni si allarga, non solo sul terzo mandato per i governatori di regione, ma anche sulla guerra a Gaza dopo la trattativa telefonica avvenuta tra la Premier e la segretaria D'ML Schlein, andando con ordine di fatto Fratelli d'Italia, così come Forza Italia sta frenando la Lega. Fratelli d'Italia prenderà le proprie scelte. La Lega non ha concordato con noi la presentazione di quell'emendamento, quindi ci sentiamo liberi di scegliere serenamente quello che pensiamo sia giusto. Per una tutela del sistema democratico, per una garanzia che permetta di prolungare, di garantire l'alternanza, noi riteniamo che sia giusto che siano due i mandati per i presidenti di regione. Ma il carroccio tira dritto. Il tetto del secondo, terzo, quarto mandato, secondo me non è sbagliato. Se un sindaco, se un presidente di regione, se un ministro, se un presidente del Consiglio è bravo, deve potersi sottoporre al giudizio delle persone e degli italiani e se votato continuare ad amministrare. Il PD, anche se al suo interno è diviso, non chiude definitivamente la porta, ma sottolinea che andrebbe riformato tutto l'impianto. Per il resto dei partiti di opposizione è un secco no. Noi siamo contrari al terzo mandato perché non vogliamo delle piccole monarchie che crescano nelle regioni o dei potentati locali. Deve esserci rinnovamente in democrazia, poi Lega e Fratelli d'Italia ormai litigano su tutto e questo non è un bene per il paese perché tra l'altro i risultati li vediamo, non governano questo paese. La politica regionale promulgata a dicembre adesso è in realtà è stata presentata a Bari, la nuova legge regionale sull'edilizia che si basa su sostenibilità e rinnovamento. Domenico Berandonizio. Una ventata di novità, una volontà di sviluppare un'idea di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio assistente. Questo è lo scopo della nuova legge regionale sulla ristrutturazione edilizia, già promulgata lo scorso dicembre e presentata al Cursal di Bari. Essa prevede incentivi volumetrici per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia. Diversi gli articoli. Il 3 fissa le condizioni per la realizzazione degli interventi. Il 4 riguarda gli ambiti di intervento. Il 5 elenca le tipologie di edifici esclusi dall'applicazione della legge. Il 6 parla di esclusioni dal limo e di riduzioni. Il 10 si occupa dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Siamo stati in grado, in una legge, di sintetizzare tutti questi temi. Minor consumo di suolo, demolizione e ricostruzione, efficientamento energetico degli immobili, delocalizzazione dei diritti volumetrici dalle aree tutelate. Guardate quanta roba c'è in una legge che è stato frutto di una condivisione straordinaria con tutti gli ordini e che produrrà i suoi effetti nel breve periodo. L'aspetto e la notizia più importante è che una delle cose su cui ho lavorato tantissimo era la stabilità della legge. La Giunta ha proposto e fatto votare al Consiglio sulla ristrutturazione di Lizia che ha in qualche maniera definitivamente risolto la saga del piano casa che il Governo ha impugnato più volte. Noi oggi stiamo sottoponendo alla critica da parte di tutti gli operatori del settore che erano stati bloccati purtroppo da una serie di incidenti davanti alla Corte Costituzionale sollevati dal Governo che avevano bloccato l'attività di Lizia e confuso gli uffici tecnici dei Comuni. Torniamo un attimo sulla autonomia differenziata. Andiamo sul quotidiano. Le scelte del Governo autonomia e il no a Roma con i sindaci del Sud non siamo di serie B. Oggi a Roma circa 500 amministratori del mezzogiorno manifesteranno per opporsi al Decreto Legge Calderoli in discussione alla Camera. Hanno risposto all'appello del Governatore Campano De Luca la rete Recovery Sud i sindacati e alcuni rappresentanti ANCI. Cosa prevede il DDL? Le regioni potranno chiedere di gestire direttamente tutte le 23 materie su cui oggi lo Stato esercita un coordinamento e trattenere le proprie entrate fiscali per gestirle. La questione dell'EP e i fondi per garantirli se la riforma dovrà essere a costo zero non si capisce come si potranno garantire l'EP. I LEP, lo ricordiamo, sono i livelli minimi delle prestazioni. Sono veramente dei paletti che saranno fissati dal Governo per far sì che non è che ci siano proprio dei mini stati nelle regioni e quindi che ci siano comunque alcuni aspetti che siano uniformi alcune leggi ad esempio alcuni aspetti che siano uniformi per tutte le regioni. Quindi dei paletti che il Governo dovrà mettere e che le regioni dovranno rispettare affinché non ci sia troppa difformità nella gestione delle varie regioni. Dicevo, la questione dell'EP se la riforma dovrà essere a costo zero non si capisce come si potranno garantire i LEP, appunto i livelli minimi delle prestazioni in un modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Poi i calcoli dello Svimez 8 miliardi in meno. Secondo Svimez le tre regioni più ricche Lombardia, Emilia Romagna e Veneto se reclamassero le loro entrate lo Stato perderebbe 9 miliardi tra IRPEF e IVA. L'ultima carta da giocare è il ricorso al referendum se non ci dovesse essere un ripensamento sull'autonomia differenziata il PD è pronto a tentare la strada del referendum. I primi cittadini compatti al corteo siamo pronti a ricorrere al referendum. È un disegno di legge incostituzionale dicono i sindaci che protesteranno oggi a Roma si rischia la disgregazione del paese tra l'altro una manifestazione che è stata fortemente voluta dal governatore della Campania Vincenzo De Luca. Intanto nel Salento prosegue il confronto sulla ZES vedete sul quotidiano confronto sulla ZES unica procedure da facilitare per i progetti delle imprese oggi alle 17 presso la sede della Camera di Commercio di Lecce un incontro organizzato dal Presidente Vadrucci che vedrà la presenza del Ministro Fitto e del numero 1 di Union Camere prete un appuntamento importante per fare il punto della situazione e per confrontarsi sul tema. Adesso andiamo avanti ci spostiamo a Taranto per la complessa avvertenza dell'arsenale militare di Taranto arriva la Commissione Difesa della Camera che ha rassicurato i sindacati intanto è stato siglato un accordo con 10 istituti per l'alternanza scuola-lavoro Gianmarco Sanzolino Personale diretto e dell'indotto a rischio e di conseguenza mancato turnover e questo il nodo principale affrontato con i sindacati dalla Commissione Difesa della Camera in visita presso l'arsenale militare di Taranto La delegazione composta da tre parlamentari di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Movimento 5 Stelle ha assicurato un impegno costante per salvaguardare un presidio importantissimo per la Marina Italiana Questa è una problematica che interessa vari siti vari comparti della difesa e non solo i comparti della difesa è un problema generale che abbiamo in Italia riteniamo importante andare a vedere con i nostri occhi non per controllare ma per renderci conto innanzitutto delle eccellenze che abbiamo e anche dei bisogni che hanno i settori della nostra difesa Noi dobbiamo proporre e presentare le eccellenze del nostro territorio quindi le potenzialità che Taranto può esprimere e mi ripeto l'arsenale sicuramente è uno di questi ed è degno di una visita istituzionale come quella di oggi Abbiamo già visto tante altre situazioni ma non si può prescindere da Taranto io vengo dalla Liguria noi abbiamo la Spezia la Spezia e Taranto sono un po' madre e padre della Marina Italiana Proprio in questi giorni abbiamo approvato come Commissione Difesa un piano molto importante di ristrutturazione di tutte le basi Nella stessa giornata intanto il direttore dell'arsenale l'ammiraglio ispettore Pasquale De Candia e i dirigenti scolastici di 10 istituti ionici e della provincia hanno sottoscritto una convenzione per i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento Da metà febbraio 400 studenti potranno partecipare ad attività pratiche nelle storiche officine dello stabilimento coinvolti gli istituti Pacinotti Righi Aristossero Vittorino da Feltri Maria Pia Archimede Masterform De Ruggeri Don Milani Ipertini Falcone del Prete Adesso apriamo la pagina dedicata alla cronaca Sarebbe finto un pentito per poter uccidere in carcere un magistrato della DDA di Lecce quanto è ammesso dinnanzi ad un altro PM da un indagato dell'operazione Wolf condotta dai carabinieri a Brindisi Gianmarco Di Napoli Avrebbe finto di voler collaborare con la giustizia con il solo obiettivo di essere interrogato dalla PM della DDA di Lecce Carmen Ruggero e per tagliarle la gola durante l'incontro in carcere il piano poi fallito sarebbe stato ideato dal 42enne Pancrazio Carrino uno degli indagati coinvolti nell'operazione chiamata The Wolf che portò la magistratura Salentina e i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni nel luglio 2023 a smantellare il clan Lamendola Cantanna Secondo il racconto dello stesso protagonista il bersaglio era proprio il magistrato antimafia titolare dell'inchiesta Carmen Ruggero che richiese alla GIP Francesca Mariano l'ordinanza di custodia cautelare a carico di 22 persone sia Ruggero sia Mariano finirono sotto tutela Nei giorni scorsi alla GIP di Lecce è stata assegnata una scorta con auto blindata dopo che l'è stata lasciata sotto casa una testa di capretto con un coltello conficcato circa due settimane dopo l'arresto il 31 luglio scorso Carrino emerge dal suo verbale di interrogatorio del 23 ottobre tenne un primo incontro con gli investigatori salentini alla presenza della PM Ruggero in questa circostanza il detenuto avrebbe dovuto tagliare la gola al magistrato il piano però fallì e lo stesso Carrino a confessare l'attentato sventato nel secondo interrogatorio del 23 ottobre scorso che si tenne non più nel carcere di Lecce ma in quello di Terni dove il detenuto era stato nel frattempo trasferito qui Carrino si ritrovò davanti il PM Umbro Raffaele Pesiri e non più la Ruggero che aveva delegato il suo collega del posto è l'argomento questo che trova chiaramente ampio spazio sui giornali iniziamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno Brindisi il piano del finto pentito per uccidere la PM antimafia taglio la gola alla Ruggero quando mi interroga ma un carabiniere sventa l'attentato nel carcere di Lecce il 42enne Mesagnese si era procurato un pezzo affilato di ceramica ed era stato portato in una stanza con il magistrato l'intervento di un ufficiale il tenente Bruno ha trovato e sequestrato l'arma ma se quel giorno fossi stato lucido non mi sarei fatto scoprire ero arrabbiato con lo Stato ce l'avevo con tutto il sistema giuridico dopo la storia falsa della violenza sessuale e volevo attirare l'attenzione della DDA ha dichiarato dico di voler collaborare ma la mia vera intenzione era tagliare la gola alla PM usando un pezzo di ceramica del WC su cui avevo scritto il nome Ruggero e che avevo nascosto negli slip il tenente dei carabinieri di San Bito dei Normanni se ne è accorto e me l'ha tolto un folle piano procedere alla PM della DDA di Lecce Carmen Ruggero ideato dal detenuto Pancrazio Carrino 42 anni originario di Mesagne il personaggio il fruttivendolo con un tatuaggio anche sulla fronte il ritratto che è stato fatto dalla Gazzetta della Mezzogiorno affiliato nel 2010 con il grado di sgarro e santa stellina al secolo Pancrazio Carrino 42 anni ammesso di essere uomo della scu e di avere una passione per i tatuaggi tanto da essersene fatto realizzare fatti realizzare alcuni quando era in carcere anche con i nomi delle persone che voleva uccidere lo ha fatto dopo aver svelato di essersi procurato alcuni tagli sulle braccia usando una scatoletta di tonno il sangue mi eccita e non provo dolore ha spiegato in occasione dell'interrogatorio il resto nel carcere di Lecce del poveriggio del 31 luglio alla PM Carmen Ruggero prima di passare dove è? eccolo qui Carmen Ruggero prima di passare a ricostruire la rete dei suoi affiliati Carrino ha parlato dei tatuaggi nel 2013 nel carcere di Foggia mi hanno fatto anche il tatuaggio della stella che ho sulla fronte che rappresenta la dote di sgarro e su mia richiesta mi hanno fatto altri tatuaggi tra cui quello che ho sulla spalla che rappresenta un kalashnikov un uomo con il cappuccio una stella e dei nomi di persone che dovevo uccidere una condanna a morte impressa sulla pelle andiamo anche sul quotidiano Toghe nel Mirino mi finsi pentito per cercare di uccidere la PM antimafia il racconto di Pancrazio Carrino delle vicende che hanno fatto finire sotto scorta la magistrata della DDA Carmen Ruggero e la GIP Maria Francesca Mariano ero arrabbiato con coloro che rappresentano lo Stato ce l'aveva con il sistema giustizia e poi in particolare dice dopo essermi ripreso è cominciata la mia guerra personale con gli agenti di polizia penitenziaria perché ero arrabbiato con tutto ciò che rappresenta lo Stato dopo la notizia falsa della violenza sessuale per placare la mia ira erano costretti a somministrarmi dosi eccessivi di tranquillanti quel pezzo di ceramica Carrino lo nascose nel retto per eludere la perquisizione durante l'interrogatorio chiese di andare in bagno per mettersi in tasca l'oggetto con cui si sarebbe voluto scagliare contro la magistrata un racconto veramente incredibile ma rientrato nella stanza degli interrogatori trovò solo il tenente di San Vito che gli sequestro il pezzo di ceramica pur si è scoperto e già tenuto d'occhio per le minacce alla giudice Mariano Carrino non avrebbe desistito dai propositi sanguinaria verbale la sua intenzione di colpire il PM durante l'interrogatorio moglie minacciata con le forbici alcuni studenti chiamano al 112 è arrestato il gestore di un bar siamo ad un altro caso di cronaca all'interno del bar litiga e minaccia la moglie ma alcuni studenti di passaggio lo vedono vedono la scena e chiamano i carabinieri l'uomo un 77enne leccese gestore di un bar nel rione San Pio a Lecce dopo essere stato portato in caserma dei militari per le verifiche del caso a seguito della denuncia della donna è stato poi arrestato allora andiamo avanti ancora continuiamo con la cronaca morta in pronto soccorso il caso dell'anziana di 77 anni deceduta nel pronto soccorso di Francavilla Fontana adesso il caso però è stato archiviato sentiamo Cristina Cavallo si è chiusa con l'archiviazione l'inchiesta relativa alla morte dell'anziana di 77 anni di Francavilla Fontana deceduta nel pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi dove era rimasta in attesa per ore senza essere visitata il 16 novembre 2022 il GIP del Tribunale di Brindisi Vittorio Testi ha accolto la richiesta della PM Francesco Carluccio che si è occupato delle indagini preliminari a carico dei medici Raffaele IV Chiara Anna Scarsi dell'ex direttore generale della ASLA Flavio Roseto oltre che dell'ex direttore sanitario Vito Campanile e del direttore del Dipartimento Urgenza ed Emergenza della ASLA di Brindisi Massimo Leone Nel decreto di archiviazione il PM scrive si possa astenere che la signora sarebbe ugualmente deceduta anche se fosse stata visitata da un medico entro i 15 minuti dal suo arrivo la pensionata era effetta da patologie pregresse ospitata da una RSSA di Ostuni dove fu colta da malore soccorsa dal 118 arrivò al pronto soccorso di Brindisi alle 19 qui le fu assegnato un codice arancione la donna però fu visitata dopo tre ore e mezza dal suo arrivo intorno alle 22 e 30 le sue condizioni si aggravarono e di lì a poco morì quella sera c'erano 60 pazienti in attesa a fronte di solo due medici e 11 infermieri si trattava di una carenza di organico non sporadica sfociata come è noto nel caos dell'emergenza sanitaria vissuta in provincia di Brindisi negli ultimi mesi l'inchiesta non ha fatto emergere responsabilità a carico delle persone indagate scrive il pubblico ministero non sono state ravvisate ipotesi di accusa per procedere contro gli indagati il GIP condivise le argomentazioni ha disposto l'archiviazione andiamo sulla gazzetta della mezzogiorno Foggia sequestrando il tesoro di Moretti il boss al 41 bis per dei mobili e società l'operazione la dia mette le mani sul patrimonio da 2 milioni il procuratore Rossi dice sono il frutto delle ferite inferte alla società scacco al patrimonio del clan Moretti di Foggia in particolare le ricchezze accumulate dal boss Rocco Moretti 4 società 13 immobili 10 tra auto e mezzi speciali 22 rapporti finanziari e polizze assicurative del valore complessivo di circa 2 milioni e mezzo di euro sono stati sequestrati all'alba di ieri dalla DIA beni ci sono anche negozi di articoli per la casa pellet ristorante due bar tutte attività già affidate dall'amministratore giudiziario intestati a 10 prestanome ma riconducibili al capo clan da anni al 41 bis ritenuto tra i capi fondatori della società foggiana la mafia del capoluogo Dauno adesso ci fermiamo perché diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per scoprire che tempo farà nelle prossime ore e poi torniamo ancora in diretta con la nostra Rassegna Stampa proseguiamo con la cronaca la gazzetta del mezzogiorno la pagina dedicata a Taranto inchiesta sui lavori al porto tre accusati di turbativa ad asta sotto i riflettori della procura un appalto da 22 milioni di euro sono tre gli indagati finiti nell'inchiesta condotta dai carabinieri sulla presunta turbativa d'asta in una gara d'appalto da 22 milioni di euro al porto di Taranto è quanto emerge dall'avviso di conclusione delle indagini firmato nei giorni scorsi dal pubblico ministero Salvatore Colella che ha ereditato l'inchiesta della collega Maria Grazia Anastasia trasferita alcuni mesi fa alla procura di Lecce sotto riflettore è finito il maxi appalto per i lavori di rettifica allargamento e adeguamento strutturale della banchina di Levante del Moro San Cataldo in basso invece abusi medico arrestato la violenza sessuale nell'estate scorsa denunciata da una paziente è finito agli arresti domiciliari un medico accusato di violenza sessuale e danni di una paziente sono stati i poliziotti della squadra mobile a notificare ieri l'ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP Benedetto Roberto su richiesta del PM Marzia Castiglia i poliziotti guidati all'epoca dal vicequestore Cosimo Romano hanno portato avanti le indagini dopo la denuncia di un giovane calciatore che al termine di una partita aveva avvertito dei dolori all'inguine con il fratello si era recato nel più vicino studio fin da subito l'atteggiamento del medico è stato ambiguo ha fatto denudare il giovane ha subito allungato le mani nelle parti intime e quando il paziente ha chiesto spiegazioni ha provato a sostenere che era una pratica per eliminare il dolore il giovane atleta però si è sottratto a quella violenza e poco dopo ha chiamato le forze e l'ordine che sono recate sul posto e hanno identificato l'uomo su delega del PM Castiglia quindi i poliziotti hanno iniziato a interrogare i colleghi del medico portando a galla una vicenda surreale i comportamenti maniacali del medico erano a ben vedere già noti nell'ambiente come emerso dalle successive indagini scrive infatti il giudice Roberto nella sua ordinanza dei racconti dei colleghi infatti sono emersi problemi che i camici bianchi hanno ritenuto di natura psichiatrica ma anche dettagli inquietanti come la tendenza a prendere in carico esclusivamente pazienti uomini con i quali si legge nelle carte sembrava addirittura flertare piuttosto che visitare quel medico insomma era abituato a far spogliare i pazienti anche quando ciò non era necessario da qui poi l'arresto ai domiciliari ancora cronaca a Sansevero disarticolata un'associazione dedita a rapine furti ricettazioni riciclaggio di autoveicoli 19 in tutto gli arrestati Antonella Davola associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine furti ricettazioni riciclaggio di autoveicoli e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti sono le accusi a carico dei 19 indagati arrestati nelle scorse ore dai carabinieri della compagna di Sansevero l'attività investigativa avviata nel settembre 2022 a seguito del sequestro di alcuni autoveicoli oggetto di furto parte dei quali già riciclati con targhe estere di nazionalità spagnola palesemente false rinvenuti nei pressi di un autolavaggio di Sansevero ha interessato uno dei fenomeni criminali più diffusi e remunerativi nel panorama della criminalità locale ovvero il mercato illecito delle autovetture dei ricambi e dei componenti degli autoveicoli provento di furto e di altri reati contro il patrimonio le indagini hanno documentato che i capi e i promotori dell'associazione criminale unitaria e piramidale potendo contare su abili soggetti esperti nella commissione di furti e nell'occultamento dei mezzi rubati coordinavano e pianificavano le trasferte anche in altre regioni d'Italia finalizzate a procurarsi i veicoli poi condotti nel territorio di Sansevero o di altri paesi vicini al centro d'Auno per essere illecitamente immessi nel mercato delle autovetture o dei componenti di ricambio ovvero per essere reimpiegati nelle attività commerciali degli indagati tra cui una che si occupa di vendita noleggio e riparazione autovetture le investigazioni oltre che sul fenomeno dei furti si sono concentrate anche su attività apparentemente lecite di officine meccaniche e autodemolizione contigue ai ladri di autovetture dove si svolgevano sia le attività di occultamento e smontaggio dei veicoli rubati da destinare alla rivendita come pezzi di ricambio sia le operazioni tese a ostacolarne l'identificazione come punzonatura smerigliatura telai modifiche e cambi di targhe nel corso delle indagini sono state arrestate in flagranza di reato tre persone ne sono state denunciate altre 21 e sono stati sequestrati e recuperati 47 veicoli integri svariate parti meccaniche e motori di decine di autovetture per un valore complessivo di oltre un milione e mezzo di euro Allora andiamo sul quotidiano rapine tra Brindisi e Mesagne siamo dunque Brindisino coppia condannata a 10 anni rapine a settembre dell'anno scorso al supermercato Eurospin di Mesagne alla tabaccheria di Piazza Vittoria a Brindisi arrivano le condanne in primo grado per la coppia finita sotto processo dopo l'arresto in flagranza del 27 settembre dei poliziotti delle volanti e della squadra mobile Cosimo Agostino Spagnolo 22 anni di Brindisi Leticia Colucci 23 anni di Mesagne sono stati condannati in primo grado rispettivamente a 5 e 4 mesi a 4 anni e 10 mesi di reclusione la sentenza è quella emessa dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Brindisi Stefania De Angelis con la riduzione di un terzo della pena prevista dalla scelta del rito abbreviato 6 anni e 5 anni 4 mesi sono le pene invocate dal pubblico ministero Alfredo manca 90 giorni il termine indicato per il deposito delle motivazioni della sentenza che potranno essere impugnate in appello dell'avvocato difensore Francesco Monopoli intanto vale la presunzione di non colpevolezza fino al pronunciamento dell'ultimo grado di giudizio nel processo di primo grado la giudice De Angelis ha avuto un metodo di valutazione diverso per i due imputati perché sono diverse le contestazioni nel loro carico Spagnolo risponde di essere stato l'autore materiale della rapina del 14 settembre all'Eurospin di Mesagne risponde di essersi camuffato il volto con una calzamaglia e di avere puntato una pistola giocattolo priva del tappo rosso contro un cassiere apri la cassa apri la cassa ci no ti sparo propria detto in dialetto si sarebbe così portato via 815 euro in banconote in questa rapina a Coluccio viene contestato il reato di favoreggiamento avrebbe aiutato Spagnolo a recuperare la pistola gettata poi dietro la recensione di un terreno rapina in concorso invece l'accusa per cui rispondono entrambi per il colpo alla tabaccheria di Brindisi Spagnolo in piazza Vittoria in pieno centro con passamontagna nero e pistola giocattolo fedele riproduzione di una beretta 92 è accusato di essersi portato via 1000 euro in due buste di plastica minacciando un dipendente ed una cliente Coluccio lo avrebbe coadiuvato accompagnandolo sul posto e nascondendo nella sua borsa l'incasso e l'arma andiamo ancora avanti ci spostiamo adesso in Basilicata a Matera con esattezza con l'ormai noto metodo del falso incidente che vede coinvolto un figlio o un nipote hanno sottratto 10.000 euro in contanti ad un anziano di Matera i carabinieri hanno rintracciato e arrestato due malfattori Francesco Cutro Lo scorso mese di novembre con l'ormai noto metodo del falso incidente due pregiudicati campani di 47 e 48 anni confinsero prima telefonicamente poi presentandosi direttamente al domicilio dell'ottantenne Materano a farsi corrispondere la somma di 10.000 euro in contanti come cauzione per evitare che il parente finisse in carcere a seguito di un sinistro stradale i carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia di Matera sono riusciti ad individuare i due truffatori grazie ad una puntuale meticolosa attività investigativa e ad eseguire due misure cautelari una in carcere e una ai domiciliari anche in questo caso hanno bloccato sia l'utenza fissa poi con un espediente hanno attinto il numero di cellulare della vittima l'hanno contattata anche utilizzando il telefono cellulare in questo modo gli hanno impedito di contattare parenti per avere conferma dell'incidente stradale o per chiedere aiuto l'importanza di denunciare consente l'avvio di tempestive indagini come è stato nel caso che abbiamo appena visto e contattare il 112 è importante per consentire un rapido intervento dei carabinieri o delle altre forze di polizia la raccolta delle prime informazioni è determinante per i successivi sviluppi investigativi in Italia non esiste la liberazione su cauzione questa è una cosa fondamentale i carabinieri pertanto non chiederanno mai denaro alle persone né tantomeno gioielli perché in qualche caso qualora non c'è stata disponibilità di denaro hanno preso i gioielli custoditi in casa consigliamo agli anziani di prelevare ormai con i sistemi con le carte di pagamento il minimo indispensabile quindi di tenere in casa poco contante abbiamo già visto qualcosa sui giornali prima in relazione al maxi sequestro ai danni di un boss della società foggiana Antonella Davola noi stiamo lavorando su tutti i grossi clan del territorio foggiano non escludiamo nessuno se no diciamo si ingelosiscono un'azienda di pellet società che gestiscono discoteche ristorazione bar e poi ancora 13 immobili tra i quali due fabbricati due abitazioni un box 10 tra auto e mezzi pesanti e 22 rapporti finanziari il tutto per un valore complessivo di 2,5 milioni di euro con investimenti tra Foggia San Giovanni Rotondo Ortanova e San Severo sequestro di beni da parte degli uomini della sezione foggiana della DIA di Bari riconducibili a Rocco Moretti 71 anni e capo dell'omonimo clan della società foggiana da tutti noto come il porco l'uomo è da 4 anni al regime del 41 bis ed è stato di recente condannato in via definitiva 10 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di associazione di tipo mafioso il sequestro si va a sommare a quelli già eseguiti dalla DIA sul territorio foggiano che negli ultimi due anni ha sottratto alla criminalità organizzata più di 19 milioni di euro un clan quello dei Moretti che ha dato il via alla società foggiana e che affonda le sue radici nella strage del Bacardi del 1986 quando vennero uccisi tre esponenti del gruppo Laviano i beni sequestrati da DIA e procura di Bari erano tutti intestati allo stesso Moretti e a prestanomi l'uomo tra l'altro negli ultimi 40 anni ha vissuto da uomo libero solo un paio di anni per la procura aggredire i patrimoni della malavita organizzata è fondamentale perseguire e ritrovare i patrimoni illeciti è assolutamente centrale perché le organizzazioni criminali mettono in conto il fatto di poter essere sottoposte a misure cautelarie e andare diciamo in detenzione non mettono in conto perché per loro è vitale il fatto di dover perdere i beni che hanno acquisito attraverso i reati quattro anni abbiamo riteniamo di avere questo risultato questo risultato lo dimostra riteniamo di essere entrati pienamente nella squadra Stato si allarga a Lecce lo scandalo relativo alle multe annullate in cambio di voti multe in particolare annullate a professionisti come avvocati imprenditori e mogli di amministratori sentiamo Maria Teresa Carrozzo le carte dell'inchiesta di multe politiche a Lecce descrivono un panorama di retroscena alle volte dei connotati grotteschi un'indagine portata avanti dalla Guardia di Finanza di Lecce e coordinata dalla Procura di Lecce che oltre all'operato degli indagati descrive un meccanismo clienterale servire che in realtà non sorprende oltre 500 le multe che sarebbero state annullate in cambio secondo l'accusa di supporto elettorale o regali e servizi nelle carte dell'inchiesta sono riportate targhe delle auto e nomi di coloro che hanno visto annullarsi le contravvenzioni gli importi delle multe oscillano tra i 37 e gli 80 euro a ricevere il favore e insospettabili tra avvocati mogli di ex amministratori di comuni della provincia di Lecce noti imprenditori leccesi e salentini e commercianti del centro storico c'è chi poi in cambio di passi per accedere nel centro storico avrebbe chiesto ad un imprenditore 100 metri quadrati di tappeto verde per allestire la location e la chiesa durante il proprio matrimonio oltre ad un trasloco di mobili presso abitazioni private il meccanismo era stato collaudato se la multa non si poteva annullare o eliminare allora si procedeva al ricorso davanti al giudice di pace o al profetto anche in quel caso gli indagati si premuravano di disporre le pratiche per fare in modo che il ricorso venisse accettato intanto il sindaco Salvemini incontrato in conferenza stampa su un altro tema ha deciso di non commentare una domanda sull'inchiesta di questi giorni gliela posso fare nella correttezza glielo chiedo sempre prima no oggi in questa conferenza stampa parliamo solo di questo e allora andiamo sul quotidiano multe e favori vedete il titolo altri tre da sospendere la richiesta della procura oggi al vaglio del giudice sono cinque gli interrogatori fissati oggi dal GIP le prime due ad essere ascoltate saranno le due vigilesse per le quali è stata già disposta la misura interdittiva a seguire l'audizione di coloro per i quali PM Alessandro Prontera e Massimiliano Carducci hanno comunque ravvisato la sussistenza di esigenze cautelari ci sono altre tre trattative di misura interdittiva formulate dalla procura nell'inchiesta sul presunto sistema di scambio di favore ipotizzato multe annullate per ottenere consenso elettorale o vantaggi e regali di altro genere i PM Alessandro Prontera e Massimiliano Carducci hanno invocato la sospensione del servizio anche per il dipendente della polizia locale Carlo Corvino per la dipendente della Lupie una società partecipata Francesca Vallone per Pier Vitale Frassanito che lavora insieme alla polizia provinciale allora quali sono le tappe di questa inchiesta scandalo uno le perquisizioni e i sequestri cinque anni fa l'avvio nel 2019 furono eseguite perquisizioni al comando e in casa di alcuni degli indagati furono trovate copie di verbali e anche una lista elettorale poi analizzata sono più di 500 i verbali oggetto di manomissione delle 800 sanzioni esaminate 500 sono risultate viziate da presunte irregolarità stornate o ridotte con metodi ritenuti non consoni attraverso l'accesso al software tre due le misure cautelari già disposte dal giudice il giudice ha disposto due misure interdittive della sospensione per un anno per altrettante vigilesse erano stati invocati i domiciliari e poi il quarto punto fissati gli interrogatori preliminari anche per altre tre persone per cui la procura ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari l'inchiesta conta in tutto 46 persone anche i multati e quindi è un'inchiesta che tra l'altro potrebbe ancora allargarsi almeno 40 faldoni enorme la mole l'inchiesta non è ancora conclusa ecco a proposito di quello che dicevamo più di 40 faldoni atti di indagine le cui copie sono a disposizione delle difese sono 800 le multe analizzate dai finanzieri del nucleo di polizia economico finanziare della guardia di finanza di lecce e un'enorme mole di materiale inclusi anche gli esiti degli accessi ai sistemi informatici le indagini ad ogni modo sono tutt'altro che chiuse e sono ancora in corso sia sull'annullamento ritenuto irregolare delle sanzioni sia sul clima pesante all'interno del comando di polizia locale dove sarebbero state fatte pressioni in talunni casi proprio per rispondere all'esigenza della coppia Luisa Fracasso Loredana Valletta le due agenti municipali sospese per ottenere spostamenti trasferimenti di personale ad altro ufficio personale ritenuto scomodo nel mirino ai vertici secondo quanto viene narrato dagli atti dell'indagine pur senza ciò sia oggetto al momento di contestazione precisa vi sarebbero state pressioni che avrebbero riguardato anche lo spostamento del comandante Donato Zaccheo e del vice Alessandro Negro insomma veramente un'inchiesta incredibile che ha svelato questo malaffare ed evidentemente inchiesta che non si è ancora conclusa andiamo avanti restiamo sulla cronaca si è svolto l'esame autoptico sul corpo del ragazzo che il 6 febbraio è caduto dalla sua sedia a rotelle durante l'uscita da scuola l'operatore autorizzato ad accompagnarlo intanto risulta indagato Francesco Schiavano A Giordignano il momento del silenzio e della vicinanza alla famiglia del piccolo studente di 13 anni il cui cuoricino ha cessato di battere nella mattinata di domenica presso la rianimazione del DEA del Vito Fazzi di Lecce dopo 5 giorni di ricovero nel nosocomio leccese il ragazzo era stato trasferito d'urgenza nel pomeriggio di martedì 6 febbraio dai sanitari del Veris dell'Iponti di Scorrano che si erano immediatamente accorti della gravità delle condizioni di salute del piccolo in seguito alla caduta del ragazzo dalla carrozzina su cui era costretto a spostarsi a causa di una grave distrofia muscolare avvenuta poche ore prima durante l'uscita dall'istituto scolastico di Giordignano che frequentava mercoledì è stata eseguita l'autopsia sul corpo del giovane studente dal medico legale Alberto Tortorella su disposizione del PM Alberto Santa Catterina titolare dell'inchiesta che si è aperta in seguito alla denuncia presentata dai genitori del 13enne i quali vogliono fare chiarezza su quanto accaduto ed accertare eventuali responsabilità l'esame autoptico ha confermato la rottura delle tibie del femore ha fatto emergere la presenza di un edema celebrale l'accertamento medico legale cui seguiranno ulteriori analisi è stato eseguito da Vincenzo Garzia consulente medico scelto dalla famiglia della vittima e dal collega Pierluigi Chiriaco per la controparte il 29enne di Maglio operatore sociosanitario che nella mattinata del 6 febbraio accompagnava lo studente finito nel registro degli indagati per omicidio colposo nel pomeriggio intanto si svolgeranno i funerali del ragazzo presso la chiesa matrice di Giordignano insieme a te volato in cielo un pezzo del nostro cuore questa è la scritta presente sul manifesto posto accanto al portoncino d'ingresso dell'edificio dove è avvenuto il tragico episodio e che esprime in parole il dolore che sta vivendo la comunità scolastica è un momento difficilissimo un momento molto difficile per tutta la comunità educante per tutta la comunità la scuola è scossa ovviamente quanto la famiglia come la famiglia la scuola è vicinissima alla famiglia vedete sul quotidiano un fiume di ragazzi per la dio al tredicenne i compagni hanno esposto striscioni fuori dalla chiesa ciao Angelo contevo la via un pezzo del nostro cuore chiesa gremita per i funerali del ragazzo morte in ospedale dopo una caduta dalla carrozzina venuta dinnanzi alla scuola poi in basso a centropagina ancora cronaca calci e pugni davanti al liceo in ospedale due quindicenni episodio di bullismo e danni di due ragazzini pestati e feriti anche con un oggetto contundente sulla vicenda stanno indagando ora i carabinieri ad agire sarebbero stati in gruppo alcuni coetanei circondano due studenti quindicenni e li aggrediscono con calci e pugni facendoli finire in ospedale è accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Casarano e ora è caccia ai componenti del branco anche loro giovanissimi studenti le vittime del pestaggio sono due ragazzi residenti a Parabita e frequentanti l'istituto superiore magistrale tutto avvenuto attorno alle 13.30 su Viale Francesco Ferrari non molto lontano dall'istituto tecnico commerciale di Casarano stando a una prima ricostruzione della dinamica il gruppetto composto da 7-8 ragazzi tutti intorno ai 15-16 anni avrebbero iniziato a infastidire una delle due vittime l'amico sarebbe quindi giunto in suo aiuto entrambi poi sarebbero stati accerchiati dal branco e colpiti ripetutamente calci, pugni e spintoni nei confronti dei due quindicenni che poco o nulla hanno potuto fare per sottrarsi alla violenza quando poi il gruppo si è allontanato sul posto è giunto un'ambulanza al 118 della postazione di Casarano il personale sanitario ha medicato i due studenti sul posto per poi trasferirli al pronto soccorso del Sacro Corre Gesù di Gallipoli dove sono stati presi in cura dai medici per le medicazioni del caso quindi ancora un caso di baby gang più che di bullismo in questo per quanto riguarda quanto avvenuto in un momento in cui tra l'altro questi temi sono di strettissima attualità si è riunito a Barletta il comitato per l'ordine alla sicurezza pubblica dopo il ferimento di una ragazza di Trinitapoli in una discoteca di Trani il prefetto ha commentato l'accaduto e ha annunciato provvedimenti ulteriori dopo la temporanea chiusura del locale Antonio Gargano chiusura di 15 giorni e sanzione di oltre 1600 euro per la discoteca di Trani in cui nella notte tra venerdì e sabato una ragazza di Trinitapoli è rimasta ferita ad una gamba da un proiettile vagante il locale risultava privo delle autorizzazioni e dei requisiti necessari per svolgere l'attività la questura della Bata ha posto i sigilli nella mattinata di giovedì a seguito del comitato per l'ordine alla sicurezza pubblica che si è riunito nella prefettura di Barletta il prefetto della sesta provincia pugliese Rossana Riflesso ha commentato l'episodio facendo leva sulle responsabilità degli enti locali è stato anche richiesto al comune di fare quello che appunto deve fare sotto il profilo amministrativo noi abbiamo intensificato i controlli non soltanto per quella discoteca ma per tutti per tutte le discoteche in generale per i locali appunto pubblici e quindi questi controlli intensificati sia sotto il profilo amministrativo ma anche sotto il profilo della sicurezza comporteranno poi in particolare proprio per le discoteche dei presidi davanti come dire appunto alle discoteche ma anche sulle strade che portano a questi locali per un controllo preventivo anche di chi entra in questi in questi locali quindi io mi auguro auspico che appunto anche da parte degli enti locali che hanno specifiche competenze nelle attività di controllo non sia come dire trascurato questo aspetto la dottoressa Patrizia Fama è il nuovo presidente del tribunale per i minorenni di Taranto Gianni Sebastio il presidente di Chiara dottoressa Patrizia Fama immessa nel possesso delle funzioni di presidente del tribunale per i minorenni di Taranto del Chepto del Vale la dottoressa Patrizia Fama è il nuovo presidente del tribunale per i minorenni di Taranto la cerimonia di insediamento ufficiale si è svolta nella sede ubicata nella città vecchia nell'aula Eugenio Viesti subentra alla dottoressa Bina Santella che andrà a ricoprire l'incarico di presidente presso il tribunale per i minorenni di Lecce la neopresidente Fama Tarantina di San Giorgio Ionico proviene da Bari dove aveva il ruolo di magistrato e di facente funzioni al tribunale per i minorenni del capoluogo regionale pugliese durante il discorso di insediamento erano presenti numerose autorità civili militari e religiose del territorio Ionico tra cui il prefetto Paolo Adessi il questore Massimo Gambino il comandante provinciale della guardia di finanza il colonnello Massimiliano Tibollo e il comandante provinciale dei Carabinieri il colonnello Gaspare Giardelli c'era anche l'arcivescovo di Taranto Monsignor Ciro Miniero e l'ammiraglio Flavio Biaggi Nel corso della cerimonia di presa di possesso la dottoressa Patrizia Affamà ha parlato dell'importante responsabilità che assume con questo incarico anche in un delicato momento di transizione che vive tutto il mondo della giustizia in generale e dell'istituendo tribunale della famiglia che entrerà in vigore tra qualche mese ieri si è giocato in Serie C un turno fra settimanale sviluppato nelle giornate di mercoledì e giovedì con due dirette in esclusiva su Antenna Sud dopo Juve Stabia Brindisi di mercoledì ieri vi abbiamo raccontato Foggia Monopoli terminata con la rocambolesca vittoria dei padroni di casa di questo e di altro parleremo tra poco nel nostro TG Sport è la linea dei colleghi della redazione sportiva e poi torniamo ancora qui in diretta con questa prima edizione del nostro telegiornale interregionale e ovviamente la nostra rassegna stampa Grazie a tutti